Salve a tutti, in questo video cercherò di spiegarvi cosa sono gli integrali, con una spiegazione il più possibile intuitiva e perché sono importanti. Beh, gli integrali non sono altro che una somma di quantità infinitesime, cioè quantità molto molto piccole prossime a zero. Ad esempio, questo, l'integrale in S di dv, dice di praticamente la somma di tutti i dv che stanno all'interno di S, dove S è, diciamo, una regione dello spazio. Ad esempio, dv potrebbero essere dei volumi infinitesimi e S potrebbe essere una sfera e quindi vado a sommare tutti i piccoli volumi infinitesimi dentro una sfera e quindi otterrei il volume. In un altro modo, questo S praticamente definisce quali dv o quantità infinitesime vado a sommare. Un altro modo che potreste trovarlo scritto è questo, cioè l'integrale da a a b di f di x in dx. In questo caso, praticamente, a e b sono delle coordinate sull'asse x e quindi quello che dico è sommo tra a e b tutti i dx, quindi dei piccoli segmenti infinitesimi, ognuno di questi moltiplicati per f di x, cioè il valore di f in quel punto. E quindi per ogni punto che si trova tra a e b, prendo il punto, prendo il valore in quel punto, quindi f di x, e lo moltiplico per questo segmento infinitesimo e sommo tutti questi termini. Per capire meglio quello che ho appena detto, proviamo a vedere l'applicazione degli integrali a un problema di fisica. Qua abbiamo una massa che viene tirata, che è un corpo che viene tirato con una forza f1 in questo intervallo da x0 a x1, poi viene tirato con f2 da x1 a x2, poi f3 da x2 a xf. Praticamente noi vogliamo sapere quant'è il lavoro compiuto da queste forze, dove il lavoro è uguale alla forza moltiplicata per lo spostamento. Quindi in questo caso è semplice perché il lavoro totale, possiamo dire che il lavoro è la somma dei lavori sui tre intervalli, quindi l1 è f1 per x1 meno x0 più f2 x2 meno x1 più f3 x3 meno x2. Perché? Perché la forza qui su questo intervallo abbiamo detto essere costante, in un modo più compatto si può anche scrivere la sommatoria per i che va da 1 a 3 di fi per si dove si è uguale a x i meno x i meno 1. Questo praticamente cosa significa? Per ogni valore tra 1 e 3, cioè i assume ogni valore tra 1 e 3, quindi 1, 2 e 3, viene sommato questo termine fi per si, quindi verrà prima, sarà f1 per s1 più f2 per s2 e f3 per s3. E questo è quello che abbiamo detto qua su praticamente. E fin qui non c'è niente di strano, lo si risolve facilmente con una somma delle somme delle moltiplicazioni. Possiamo anche vederlo come problema grafico. Qui ho disegnato la f in funzione di x perché per ogni punto in cui ci troviamo avremo una forza con cui questo corpo viene tirato. E quindi la forza dipende dalla posizione x e quindi è una funzione di x. Se noi vogliamo sapere il lavoro, abbiamo detto essere la forza per lo spostamento, qua la forza è questo segmento qui perché è rappresentato da questo asse, quindi la distanza dall'origine a cui è l'entità della nostra forza f1. Questa forza fa un lavoro su questo spostamento da x0 a x1 e quindi questo segmento ci rappresenta lo spostamento, quindi moltiplicandoli assieme otteniamo l'area di questo rettangolo. E quindi possiamo dire che l'area sotto questa curva ci rappresenta proprio il lavoro per come abbiamo definito la forza in funzione dello spostamento. Ma cosa succede se la forza cambia continuamente? Cioè se per ogni punto abbiamo un valore della forza diverso? Beh, per capire bene questo problema vediamo la rappresentazione grafica. Come vedete qua abbiamo il problema di prima in cui in degli intervalli finiti, cioè da qua a qua ad esempio, abbiamo una forza costante. Anche qua abbiamo un esempio con più forze, però anche qua abbiamo degli intervalli finiti, quindi anche se ce ne fossero 100 noi comunque possiamo usare lo stesso modo per fare i calcoli. Qua invece la situazione è diversa perché come vedete in ogni punto abbiamo una forza diversa. E quindi ad esempio se io sono su questo punto, se il mio corpo si trova in questo punto qua, sappiamo che verrà tirato con una forza pari a questa quantità, però non sappiamo su che intervallo viene compiuto questo lavoro, perché questa forza non rimane costante per un intervallo finito. Quindi quello che possiamo pensare di fare è approssimare la nostra curva con questi, vedete, trattini, spostamenti in cui la forza è continua, tutti nella distanza delta x, e la forza essendo costante, su questi intervalli possiamo usare l'analogia di prima, quindi questo qua sarà f1, questo qua f2, poi f3, f4, eccetera, eccetera. Quindi il nostro lavoro totale approssimato sarà f1 per delta x più f2 per delta x più eccetera, eccetera. Capite che se i miei delta x diventano più piccoli, l'approssimazione diventa migliore, perché? Perché praticamente se noi avessimo un tratto così lungo, qua diciamo abbiamo molto errore, invece se sono molto stretti si avvicina molto di più alla curva. E quindi prendiamo proprio degli spostamenti infinitesimi dx. E quindi quello che dobbiamo fare è il conto della forza con degli spostamenti dx. Qual è il problema? Il problema è che mentre con i delta x abbiamo degli spostamenti, abbiamo un numero finito in cui le forze sono costanti, perché? Perché se ad esempio questo punto lo chiamo A, questo punto lo chiamo B, se da A e B ci sono 10 metri e i nostri delta x sono 10 centimetri, c'è un numero finito di intervalli. Invece siccome questi dx sono spostamenti infinitesimi, in realtà sono talmente piccoli che anche in un intervallo A, B qualsiasi ci sono comunque infiniti dx. Quindi quello che noi dobbiamo fare in realtà è fare la somma di fdx moltiplicato per dx. Cosa significa? Significa che per ogni punto prendiamo il valore della forza e lo moltiplichiamo per questo spostamento che adesso io disegno molto più grande ma dovete immaginarvelo infinitesimo e otteniamo questo lavoro compiuto da questa forza. E dobbiamo sommarli tutti. Siccome sono infiniti non possiamo fare la somma come qua e per calcolare questa somma in realtà si usano proprio gli integrali quindi l'integrale da A, B. Può sembrare molto strano che si riesca a fare una somma di infinite in quantità infinitesime ma questo lo spiegherò in un altro video in cui spiegherò perché si possono usare le primitive delle funzioni per fare questo calcolo. Adesso fidatevi che con gli integrali si può fare proprio questo e cioè una somma di quantità infinitesime. infatti il nostro lavoro è questo e praticamente anche questa è una quantità infinitesima perché lavoro su uno spostamento infinitesimo. se non fosse infinitesimo anche se valesse 0,01 J capite bene che essendocene infiniti tra A e B avremmo energia infinita. Inoltre tenendo l'analogia di prima per cui questa è la forza diciamo questo segmento rappresenta l'entità della forza e questo segmento rappresenta lo spostamento moltiplicandoli assieme e otteniamo l'area questo discorso vale anche qua e quindi il lavoro è lo stesso rappresentato come l'area sotto la curva per questo motivo anche se non stiamo cercando il lavoro di una forza se volessimo sapere l'area sotto la curva di una qualsiasi funzione possiamo usare gli integrali. Quindi perché sono importanti gli integrali è perché permettono la somma di quantità infinitesime come visto prima è perché permettono il calcolo dell'area sotto la curva del grafico per evitare che uno veda sempre associ sempre l'integrale all'area sotto una curva quindi dover sempre rappresentare questa funzione vediamo un altro esempio in cui si usano gli integrali come somma di quantità infinitesimi il problema è questo abbiamo un cilindro che è una densità che indico con la lettera P variabile nel senso che per ogni punto dove del cilindro avremmo un valore diverso o potremmo avere un valore diverso la densità definita come la massa fratto il volume cioè ad esempio quanti chilogrammi pesano un metro cubo del materiale e noi vogliamo sapere la massa totale chiaramente non possiamo fare volume totale moltiplicato per la densità perché la densità varia però quello che possiamo fare è considerare dei piccoli volumi infinitesimi su cui consideriamo la densità costante e quindi questo piccolo volume avrà una peserà una certa quantità dm che sarà uguale alla densità moltiplicata per il suo volume che sarà come abbiamo detto infinitesimo quindi noi quello che dobbiamo fare è la somma di tutte queste dm e quindi l'integrale di dm nell'area della regione del cilindro e quindi questo diventa l'integrale di p per dv sul cilindro per adesso questo è tutto per qualsiasi domanda commentate pure sul video o mandateci un'email a we.learn.academy.gmail.com e alla prossima a Grazie a tutti.